occhi incastrati arrivo su me metà posti dai dai oh bella raga i biscotti cosa fa Dani stava pregando per il mio ritorno si forse per questo riprendi aggiornamenti in quanti siamo rimasti raga è andato via qualcuno è andato no chi è andato via è andato via alle è andato via nessun altro è andato già a letto io ho preso un pezzo di dolce mattone no eh ci devi fare la devi fare la bidaudine ci sono Maiko sono andato a prendere cazzo si fa schifo la la birra dopo il mio vado porca trono non ti piace ahahah vuoi vittre si eccomi ciao ciao ma le persone non no che scicci barbara parlando sf che c ma che mangiucchiare bisogna bere si ma ok allora sono scemo io faccio in piedi la metti ma bellissimo cosa ti mangi non so mattone ma no mi dai un pezzo si guarda apri la bocca apri la bocca buono ci sta si si è buono che fai davide guarda qua che fai stare meglio se la del telefono li ho potuto tenerlo o altissimo o altissimo altissima, altissima purissima so che ti sento nell'applicazione e dire perché sono stati usciti dei danni si ma dov'è danni è andato a prendere qualcosa da mangiare adesso ma veramente sono buoni bocca altrimenti non ce li mangiavamo grazie mi fa piacere ok qua disattivo davide è andato a prendere la classe auguri auguri vabbè mi fai mi fai ma Dave quelli della classe ti hanno fatto gli auguri con dei luoghi eh no 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 ormai l'hanno abbandonato ah ce l'hanno fatta sembrano Slowpoke o Slowpoke ahahahahah ahahah ahahah ma un bel putto che poi attualmente su un opo che è super carino quindi c'è ma è tonto come un sasso è lento ecco eh non ha sopperto Dani come ci arriviamo alle 7 oggi eh? chi è? chi è? sei tu? oh oh sei tu Dani no porco dio questo è Gabri senza barba guarda aspetta aspetta Dani chi è? oh 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 è una ticca? Gabri senza barba più o meno non quello ma sarà una no è una totte elettronica no nooo ma come si? aspetta aspetta eh ma perchè gli piace mi piacciono le cose in gola Dani per quello che ti dico ahahah ma ti ho casa mi sento come fa a casa perché si può un pinaro ahahah ma è lui ah ma quelle quelle Gabri ahahah